Il dolce che hai realizzato si chiama Dulcis Venia. Come è nata l'idea? Allora, il dolce stavamo pensando di realizzarlo già da aprile. Un dolce che riguardasse sì la perdonanza, ma che abbracciasse un po' quello che è il concetto dell'aquilanità. Quindi abbiamo deciso di metterci il simbolo che almeno secondo me è quello che rappresenta di più questa città, che è quindi il rosone di Collemaggio. Abbiamo fatto fare degli stampi apposta per questo rosone. Abbiamo fatto una ricerca sulla materia prima e sui prodotti, cercando di prendere quello che abbraccia non solo l'aquila, ma anche in parte un po' l'abruzzo, perché siamo andati anche fino ad Atria a prendere la liquirizia, che è un ingrediente che si sposa alla perfezione con lo zafferano. Troveremo alla base del dolce anche una parte croccante data dalle mandorle. Ci sarà anche una piccola parte salata e poi c'è un cremoso allo zafferano che chiude tutto con questa cialda rappresentante del rosone. Hai lavorato in Francia, hai lavorato in Inghilterra. Quanto c'è della tua esperienza professionale in questo prodotto? A livello tecnico c'è sicuramente tutto all'interno del dolce. Infatti è un perfetto connubio fra la mia esperienza tecnica che si è formata in Francia e l'esperienza culinaria che c'è qui all'Aquila. È perfettamente un bel amalgama. Oggi la pasticceria aquilana che futuro potrebbe avere? Abbiamo sicuramente un futuro positivo perché ci sono tante belle realtà sia in Abruzzo ma soprattutto anche dell'Aquila, quindi sono assolutamente fiducioso. Il tuo obiettivo professionale qual è? Il mio obiettivo professionale è sicuramente crescere il più possibile sia a livello personale che far crescere sempre di più l'attività di famiglia, far conoscere il più possibile il nome d'Alin Costa che è quello che se non c'era tutto questo forse non era possibile e quindi l'obiettivo è questo.